sabato 28 marzo 2020 siamo in periodo di detenzione forzata a causa della corona virus l'articolo è di giovedì 27 aprile 2017 l'articolo il racconto che si intitola zehava dan forse non tutti sanno che non si muore mai si porta a compimento il percorso terreno e si rinasce in un'altra contrada o in un altro tempo la notte dei tempi quelli che i libri di storia non raccontano mai ci ha lasciato uno scritto proveniente dalla terra di atlantide la storia ufficiale quella scolastica non racconta che esisteva un popolo che costruiva navi che potevano viaggiare senza bisogno di vele o di remi non racconta che quel popolo realizzava imponenti costruzioni senza bisogno di attrezzature troppo sofisticate non racconta che pietre enormi venivano spostate e sistemate da un solo uomo non racconta che nella storia di atlantide esistevano ed esistono tuttora macelati i giganti non racconta che i resti degli antichi giganti sono stati fatti sparire volontariamente fatti sparire dalla premiata ditta bonifiche italiane non racconta che la gente di atlantide conosceva e conosce i segreti dell'energia dispensata in maniera gratuita anche dal magnetismo terrestre non racconta che la gente traeva e tra energia dal contatto diretto con la terra viveva in quel tempo il re dan al centro di quella terra che oggi chiamano sardegna era un re come tutti gli altri re esattamente come tutti i suoi conterrani in quell'isola che isola non era tutti erano re viveva e operava da sovrano di se stesso e della sua terra dalla terra e dalle energie della terra traeva la sua forza e il suo pensiero progrediva a stretto contatto con la natura quando portò a compimento la sua esistenza terrena restò millenni come ibernato come sospeso dalla storia e dalla civiltà che intanto regredeva tornò in quella terra in una zona desertica della mesopotamia la incontrò la donna che avrebbe dato inizio alla sua discendenza la bella vahia non passarono molti illustri che il deserto venne trasformato in un luogo vivibile verde vahia e dan diedero vita ad una discendenza che avrebbe viaggiato per tutto il globo alcuni di loro si stabilirono in terra di palestina quella discendenza era destinata a dominare il pianeta intero e lo dominava soprattutto con una sua invenzione il denaro ormai tutto il mondo riveriva quel ristretto gruppo di semiti che col tempo da una corretta filosofia di vita insegnata loro dai progenitori passò ad una scellerata pratica che avrebbe sottomesso tutta la restante umanità l'usura il capo indiscusso di quella stirpe colui che effettivamente poteva decidere portava il nome di zehava ora non sappiamo se zehava fosse la trasposizione di dan ma certo dalle forti assonanze tra delle forti assonanze tra i due esistevano i discendenti di zehava stabilirono nel pianeta terra dei punti di comando dai tempi nostri il centro direzionale assoluto si trova a roma da roma dipendono i centri di londra riga washington messico city malta adelaide lagos e shanghai oltre a tanti altri minori dislocati in tutto il pianeta oggi quel ramo della discendenza di zehava e vahia viene identificata con il nome di sionista hanno tutto il pianeta a disposizione governi eserciti religioni ricerche scientifiche atenei giornali satelliti armi navi aerei e tecnologie che conoscono solo loro la piramide che stanno costruendo è ormai al termine manca solo il vertice come una moderna torre di babele però stanno incontrando delle difficoltà per ultimare la costruzione è come se manchi un tassello fondamentale basilare è come se manchi una intuizione un'idea una illuminazione per l'ennesima volta dan decide di tornare in terra per fornire al loro la soluzione al dilemma fa capire al loro che l'indirizzo materialistico adottato è come fatto di fra fragile arenaria con che il tassello mancante si chiama spiritualità fa capire al loro che con la prevaricazione con il debito con il dominio mediatico e fisico non si può raggiungere il dominio assoluto fa capire che il dominio è una parola vuota che il far parte dell'umanità deve essere derivata da simbiosi da compartecipazione non da istruzioni forzose fa capire che una nuova era è alle porte che il regno del male che loro hanno costruito non porta giovamenti nemmeno a loro stessi fa capire loro che non serve costruire le piramidi in un deserto delle menti se non si ha la volontà di trasformare quel deserto in un nuovo eden fa capire loro che non tener conto delle proprie radici spirituali porta alla estinzione morale materiale dan è tornato alla sua terra alla terra di origine ormai sionisti hanno capito che costruire piramidi di fragile arenaria non porta all'eternità e se proprio vogliono costruire devono utilizzare pietra dura pietra nuragica oggi sionisti finalmente ravveduti vengono in sardegna chiedere consigli a prendere ordini e si prospetta così finalmente un futuro radioso per tutta l'umanità sanno che se sgarreranno ancora per loro non esisterà scampo e questo è un periodo di grandi cambiamenti e di cambio di paradigma